Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi giocheremo al cocco dentista con Enzo e Faghe poi ragazzi allora io sono il primo chi è il secondo? io secondo, terzo e quattro si gioca anche lei però lei non è il secondo primo, iniziamo subito non ci sono alcuni io prima si ma si muove ma non si ha perso ma non si ha perso vai noi tre, noi tre noi tre, va bene, così io perdo io perdo io lo vinto io perdo io e Enzo io secondo secondo terzo oh si vincita oh yeah oh yeah è vincita proprio oh tutto perché io si vincita proprio mi piace sempre io inizialo i vincitori oh faremo cinque round questo è il secondo conti e punti di cioè conti e round oh vaio perdo shit shit io perdo oh 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 ne mancano 3 dai 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 stai rubicando dentro vado vai oh 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 io perdo no io perdo no io vinco shit finale 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 ti vincerebbe boss no niente ci sarà un punto ma si purtroppo tu vai allora terzo round ha vinto lui vado vai oh tu me lo senti e questo è il quadro di sicuro 3 io vinco no io fermo vai tocca a te nooo rimaneva uno jimmy boy che sfida non ha vinto però ha vinto lui perchè perchè vai non è vero non è vero sono stupido ragazzi ciò è il boss l'eldor di uvore del mondo 1 1 1 3 questo è il quarto round via l'ultimo si vabbè bravo vai uuuu non mi romano ti tocca a me si lo so nooo l'editor ha perso finalmente chi tocca nooo si a me sei eliminato ah ole ha perso niente carina contro ensulan vediamo chi vincerà tanto carina perde questo cuore guarda si ma se ti muovi grazie oh la la muore si grazie voi ci mettete troppo c'è c'è 2 punti questo è l'ultimo round o pareggiamo noi tre oppure lei non può mai vincere oppure lui vince quanto siamo 1 1 2 1 2 2 punti mi distrutto inizia yes oh yes oh ansia oh mia mamma no perchè io tocca a me uuuu 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 mi prego serina dai non vale così nooo questo è questo quello 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 che è che uuuu dai non vale così ti rifà uuuu 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 uuuu